Gloria, 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 gloria. Dal Vangelo a Senzan. In lauta Gesù l'ha dit. In verità, in verità, Gvedie, chi che non va del sole della feide sitte per us, malvaite da nautra man, l'enlere è un brigante. Chi che invece vaite per us, le pester della feide. Il Vardian Geverce e la feide scotta sia aus, il chiamassia feides, ogni una per i nom, il semena fora. E che anche la mena fora, tutta sia feides, el vadant da eles, e la feides gervado, perché che le scognossi a aus. An forest invece non le girsi radò, ma le sampará, perché che non le scognossi la aus di foresce. Gesù già ditte che stava l'ivanza, ma icce non jente nu, di quella che il Gerasonea. Gesù cosita già ditte in doda nef. In verità, in verità, Gvedie, Gesson l'us della feides. Duce, chi che è venuto in atta me, le l'eres è brigante, ma la feides non li ha scuté. Gesson l'us, se un venite, traverso di me, il vennerà salvà. Il ziraite, il vennerà fora, il troverà in pescol. L'ere, il vendemò per rober, coper e desater. Gesson veniu, perché che gli ha esse la vita, e il ha esse in bondanza. Parola del Signore Dio. Gloria, gloria. Gloria, gloria. Si andò a vivere insieme la quarta domenica di Pasqua, chiamata in c'è la domenica del Pastor Valente e da cinquantonegne, dedicata, teduta alla Gesia, all'orazione per le vocazioni a doventare previ. Le Papa Francesca, che dà stono al suo messaggio con le medieme parole di Gesù. Preà è il Patron del Regoio, perché che mani l'urierance teso Regoio. L'orazione, disse il Papa, che metto da insieme al sacrificio e al padimento, la va al cento mille oltre di più, e la doventa ammette Gaert per domanare che i chiamei i resti fideli a sua vocazione, e i si è buoni di raggiungere la più alta misura di perfezione evangelica. Ente Gesù, dando deseccheri il foro i siei collaboratori, i doudes apostoli, la passà non ott'entria a prear. Ma non basta che Gesù pree, di valente che le fei di giovai do al suo Pastor, e le conosce il suo Ous. Per essere valuta, una os gaerta, ma mai autoritaria, una os segura e sparvesenta. Chi che le Pastor chiama a sua fede una paruna, e le mena fuori sui Pabui da far venire l'aga morta, e va in anta a ele per giocare la guida. Il Pastor non è da ora Gesù, ma c'è il Papa, il Piscopo, il Preve, c'è i genitori, i maestres e le maestre, l'imprenditore, il politico, il capo ufficio. Al didanché, a un besenne, che duc d'idea far capire ai sogni il valore della vocazione, a doventar preve, o frate, o monia, soraldut con l'orazione. Una parte del relief per il davenire delle vocazioni della Gesia la ha la famiglia, la santità dell'amor dei due spos, l'armonia della vita della famiglia, il spirito di fede per far fronte ai problemi della vita di Ducidì, se verser agli etres, soralduta ai più purecci, la partecipazione alla vita della comunanza cristiana mette in essere l'ambiente che carinea per dar fè alla chiamata divina e per una datola risposta ai fies. Prea ben dappò il padrone del regoi perché mani l'urierance teso regoi. Diamo a chi che harà domanà al padrone del regoi di manare l'urierance teso regoi la raiance e l'allegrezza di vedere a pede il chi che si dà su parel. Desche pastor valente desche guida desche pare preve e maester. A chi che ti ha dato tutto non rifiutare il tuo don d'amore e se tu ti senti chiamare non giutare la schiena perché il è il Signore Dio l'abbiamo di te. Staron se ben amici di faça se vedaron domenio che vien. gloria, gloria 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 gloria, gloria, gloria gloria, gloria, gloria gloria, 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 gloria Grazie a tutti